A Bonabitacolo c'è un incontro per parlare di legalità e la BCC Bonabitacolo che l'ha organizzato ha deciso di farlo insieme agli studenti delle varie scuole dove sono posizionati gli uffici della BCC di Bonabitacolo. Un incontro che è stato tenuto proprio per parlare di legalità e di parlare di civiltà e di modi di comportarsi. Nelle interviste capiamo di cosa si è parlato e di quali sono gli obiettivi di questo incontro. Oggi è una bellissima iniziativa, è la prima di una serie di incontri che faremo con le scuole. Gli altri saranno il 16 e il 26 gennaio e poi anche a febbraio il 12 e il 26 febbraio. Parleremo di dipendenze, di droghe, di gioco d'azzardo ma soprattutto è un messaggio importante perché la legalità se ne parla tanto, si dà tutto per scontato ma scontato non lo è perché noi sappiamo che sul territorio convive lo Stato con le società malavitose, vivono sullo stesso territorio, quindi quando lo Stato indietreggia diventa un terreno fertile per le società malavitose. Noi dobbiamo fare in modo tale da rimuovere delle difficoltà che permettono che ci siano delle leggi giuste e che ci siano pari e giuste opportunità per tutti. Noi siamo in prima linea, lo siamo sempre stati, per dire che il discorso della legalità è un discorso fondamentale per le future e per le nuove generazioni. Queste sono sicuramente occasioni importanti per ricordare che la legalità deve essere al centro della vita di ognuno di noi, anche di nuovi adulti ma soprattutto delle nuove generazioni e quindi per avere sempre come punto di riferimento le azioni giuste, le azioni corrette per condurre una vita migliore.